Allora ragazzi, ora vi faccio vedere cosa ho preso per i capelli per evitarmi la tinta Spero che funzionerà, comunque lo proveremo insieme Allora prima di tutto questo stampa di giallo che avevo finito con lo della L'Oreal È 500ml e già da qui fa un profumo pazzesco 0% filiconi, fantastico E quella maschera che ho preso che fa il colore è questa di Wella La colorazione è pure blonde e piccolina che è 150ml però spero funzioni Vediamo dove l'italiano Maschera pigmentata per arrivare il colore in modo temporaneo Usare una volta alle settimane sui biondi particolarmente chiari per un effetto platino con olio e avocado Formula delicata sui capelli senza silicone e ingredienti di origine animale La storia che va ad applicare abbondantemente sui capelli La storia è in posa 10 minuti, lo rilascerò un'ora Ecco qui Allora ragazzi, è un olore pazzesco anche questo ed è ovviamente lilla Buonissima Allora ragazzi, Jake Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.